Formazione italiana Punti, Tardelli, Rossi, Antonioni e Graziani Cerezo e Falcao Tamsun E uno è bulgaro Brasile Graziani Falcao l'ha tolta a Rossi Calcio di punizione per gli azzurri Rossi sul passaggio Regis Rossi Di Caprini, colpo di testa di Rossi Quinto minuto Italia 1 E l'Italia in vantaggio Cal quinto minuto Rimbalza sulla Graziani Operta Graziani Pronto il giro di Graziani E alto Serginio Serginio approfitta di un Dico Serginio fuori Leandro Che riesce a effettuare il cross Leandro Fra Scirea e Collovati Si presenta Secco Tra Con il pareggio di Socrate Socrate È il dodicesimo minuto 1 a 1 E torna il Brasile ad essere Graziani Scatto di Conti Falcao Socrate Verso Leandro E la palla si perde sul fondo Falcao E Serginio Collovati Ha interrotto Serginio C'è un terreno Colpo di testa di Junior Conti Eder Serginio Serginio Punizione Riliare Zoff Scirea Calcio di punizione per il Brasile Tudo Junior Zico Tardelli Tardelli cerca di filtrare Sulla palla Tiro di Antonioni Era andato incontro alla palla Rossi Errore di Junior Errore di Junior Prontamente Errore di Junior E Rossi al 25 Verso Seresso Che Privido perché Seresso era libero Oriali Verso Seresso Che riesce a prendere la palla E a centrarla Graziani lascia Oriali In favore dell'Italia Oriali ad Antonioni Un fallo di Gentile Spara soffa il tiro centrale Anzi no Socrates Socrates con un Junior Cross di Junior sul fondo Per l'incidente a Collovati Punizione in favore dell'Italia Palla Oscar Antonioni La rincorsa di Eder Invece tira Junior Alto Junior Alto Berzo Caprini Fallo di mano Rivediamo Falcao Calcio d'angolo Tartelli Tiro di Falcao Dribbling di Serginio Mentre c'è il calcio d'angolo Tiro di Leandro Prestato da Rossi Luisigno La rincorsa di Eder Tiro Rimbalza sulla barriera Socrates Verso Zico Gioco Zico Serginio Cereso Cross di Cereso Antonioni Graziani 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 nel tiro Rimane la palla a Rossi Cereso Zico Paueder Davanti Cereso Luisigno Pierina La scirea Poi Oriali Va incontro alla palla Falcao Il tiro di Falcao E di poco a lato Sulla destra Della porta di Zocco Sognoni di scattare Ha superato Falcao Piani è sul fondo Conti Sinistro Che appone la palla Poi ha solo Rossi in avanti Ecco il pallone L'agente Luisigno Durante Mentre avete segno Calcio di punizione Ci sono Il calcio di punizione Tirato da Zico Alto La direzione è buona Tutti attendevano la rincorsa Di Eder Sulla destra Il giugno di Junior Cereso Rossi Solo ed è in vantaggio Sul portiere Cerca l'angolo Gravissimo Rossi solo davanti Il calcio di punizione Pallone di Pallone di Gentile Sponizione di Eder Tiro Sparata di Zocco Da un 30 metri Uno dei Per il fuorigioco In cui si troverebbe Graziani Cocorale Antonioni Resini Graziani Quindi non è calcio D'angolo Torna la palla Junior A Cereso Rivediamo il tiro Di Cereso Vai in avanti Con un Brasile Spostato Eder In attacco Tira Junior La palla Sulla barriera Rimette nel mucchio Colpo di testa Di Eder L'arbitro Non Vedi Gerdinho Falcao Rivediamo il tiro Di Falcao Tutta il pareggio E riporta Sprendibile Per Zocco Siamo da parte Dei brasiliani Per la terza volta Graziani Eccolo Inquadrato Zico Al ventitresimo minuto Palla Bergomi Eder Eder Sigo Leandro Sul cross È in fuorigioco Brasile Con lodevole impegno Un tiro al volo Fuori gioco Cereso Perde la parte L'arbitro Ha richiamato E' da Il Falciani La deviazione È di Rossi Di nuovo Rossi La deviazione Triplenza Di Rossi Ali Luisigno Eder E' a munizione Monito Oriali Una selva di gambe In area di rigore Leandro Fuori gioco Di Socrate Staggio di Leandro Fuori gioco Di Socrate L'azione Delle guardaline Contravanti In questa partita Odore di tre gol E la palla È sul fondo Protagonista Rossi Junior Antonioni Anchea Rossi Di Eder Esce Zoff Fuori dell'area Palla al centro Rossi Di Conti Antonioni Antognoni Oriali Antognoni Non era fuori gioco Antonioni Mischiato fuori gioco Ad Antonioni Ed Er Pericolosissimo Il colpo di testa È di testa Angolo in favore del Brasile Ha toccato per ultimo Rossi La rimanda In area Ribatte Mandro Ancora Falcao Soltre Alza la palla Gioco Rivediamo Non è fuori gioco A Pericolosissimo Grazie a tutti.